Come dicevo la nostra partenza è stata sugli impianti audio, prima forniti solo come assistenza tecnica, poi piano piano l'installazione, la progettazione, io vengo dal mondo dell'acustica anche delle cose un po' più articulate e l'esigenza nasce dalle richieste dei clienti, le installazioni quelle così senza progettazione o comunque delle cose semplicissime vengano fatte stand alone dall'elettricista, pertanto il nostro mercato diventano le installazioni importanti, articolate, con problematiche acustiche o comunque con delle esigenze di flessibilità più elevate eccetera eccetera, diciamo che gli interventi di questi relatori ci offrono spunti ovviamente sia in termini di conoscenza tecnologica ma anche come sistema lavorativo ci si confronta con quelli che sono magari gli standard, con quelli che sono dei piccoli particolari che autonomamente non riusciresti a valutare così e quindi a valorizzarli.